Raja Osi rivolgerti a Raja al Ghul? L'avete resuscitato troppe volte. Lo mantiene in vita il flusso di particelle Lazzaro. Lui risorgerà ancora. Rinfodera la lama. Non ci saranno combattimenti qui. Ma la guerra è vicina. I traditori della Lega cospirano per fermare la gloriosa risurrezione di Raja al Ghul. Daremo Gotham alle fiamme, pur di fermare quei dannati ribelli. Allora lasciatelo morire. Sparite entro domattina. I ribelli hanno trovato un pozzo. Una fonte più pura. Gli basterebbe solo un campione della sua essenza. Non vi aiuterò a resuscitarlo. Allora affronterai le conseguenze della guerra. Ti conosciamo. Non lascerai morire degli innocenti. E non ucciderai la testa del demone per prevenire altre morti. Farai ciò che ti chiediamo. Perché così ti obbliga la tua preziosa morale. Detective. Aiutami... Per talia... Ora voltati. Lentamente. E dammi quel detonatore. Nissa. Grazie. Bruce. Raja sa che sua figlia combatte per i ribelli? I ribelli combattono per me. E quello zombie non sa più nemmeno come si chiami. O che giorno sia. O che l'altra sua figlia è morta. Mi dispiace per talia. Era fedele, sciocca. Io non lo sono. Credo tu capisca. Finché il cadavere di mio padre resterà attaccato a quei tubi, ci sarà guerra a Gotham. E cosa vuoi in essa? Vai, torna da lui. Distruggi quell'orrenda macchina, fai che quella... Cosa... Che è stato mio padre... Muoia per sempre. Io non uccido. Lui è già morto. È morto mille volte ormai. E ogni volta che il Pozzo di Lazzaro l'ha risuscitato, lo ha reso peggiore. Più colmo di odio. Più folle. Tremo a immaginare cosa sarebbe diventato se questo... Fosse caduto nelle mani dei suoi seguaci. Ma senza di lui... La lega sarà mia. E non spargerà mai più sangue innocente. Gli assassini se ne andranno da Gotham. E non torneranno. Come posso fidarmi? Lo giuro sulla donna amata da entrambi. Sulla tomba di mia sorella. Vincerò questa guerra, Cavaliero Oscuro. Sta a te decidere quanto durerà. Non lo sto facendo per te. Non lo sto facendo per te. Ah! 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 Perché? Te l'ho detto. Io non uccido. E con questo credi di non avere le mani insanguinate? Nisa... Figlia mia. Traditrice. Ah! 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 Potrebbero essere rimaste sostanze Lazzaro. No! Non come lui. Dovevi lasciarlo morire. Raj uccide per la causa. Io non lo farò. Ostinato. Stupido pazzo. Per questo lei ti amava. Mi occuperò di tutti i preparativi, signore. Grazie. Signore, permette? I rapporti della polizia indicano che la fazione ribelle sta abbandonando Gotham. Mentre Raj per un po' sarà impegnato a riprendersi. Lei ha evitato la guerra. È riprendere. Mm. Ciudad Presidente.